È vero. Abbiamo una sola vita da vivere. Dobbiamo sfruttarla al meglio. Una sola vita? Parla per te! Hai ragione, Barnaba. Gli eroi come Cassandra vivranno per sempre nelle storie e nelle leggende sui loro trionfi. Sentite. Voglio che voi due sappiate che presto me ne andrò. Ma... attraverserò mari che non avrei mai pensato di attraversare. E non so quando tornerò. Te ne vai? Di nuovo? Dove? E perché? Andrò dove ci sarà bisogno di me. Non posso sottrarmi alle mie responsabilità. Qualcuno, o meglio, qualcosa mi dice che il mio viaggio non è ancora finito. Non possiamo tenerti solo per noi. Ma scriverò innumerevoli storie su di te. Questo è certo. È un onore. Forse dovresti darmi uno dei tuoi manoscritti, Erodoto. Penso che li leggerebbero volentieri nelle terre lontane che visiterò. Non ti preoccupare. Per ora bastano queste terre. Ma se dici sul serio, uno scrittore è sempre preparato. Prendilo. Ma non devi per forza condividerlo. È per te. Anch'io ho qualcosa per te. No! La lancia! Sapevi cos'era dal momento in cui ci siamo incontrati. Ma ora non mi serve più. È tua. Attenso! È ancora affilata. La conserverò per sempre. Beh, anche se non rifiuto mai un regalo, il dono dell'amicizia è sufficiente per me. Ti basta l'amicizia? Vorrà dire che mi cercherò un altro vicecomandante per il mio viaggio. Io? In giro per il mondo? Con te? Se mi vorrai come capitano. Non so per quanto tempo ancora queste ossa riusciranno a hissare una vela, ma ti seguirò sempre e comunque. La Drestia è tua! Quale sarà la tua prima meta, Cassandra? Non lo so. So solo che mi serve una nuova arma. L'Egitto mi ha sempre affascinato. Ah, uno dei miei luoghi preferiti. Lascia che ti racconti una delle mie storie migliori. L'Egitto si li ha sempre affascinato. L'Egitto si chiara. L'Egitto si chiara. Selama buona. Grazie per la visione Grazie per la visione Grazie per la visione